Napoli, agosto 2015. Arianna è una ragazza di 33 anni. Sua madre, Angela, è un insegnante. Il padre, Sebastiano, è un ingegnere. I genitori di Arianna sono separati. Ha una sorella, Valentina, di 4 anni più grande. Arianna è una ragazza piena di vita. È cattolica e praticante. È stata anche a Medjugorje in pellegrinaggio. Le sue amiche la descrivono come una ragazza allegra, sempre sorridente. Ricordo la sua risata, dice la sua amica Manuela. Arianna era una macchietta. Solare, allegra, gioiosa. Le piaceva cucinare, fare i dolci. Aveva tantissimi amici. Ai tempi del liceo, Arianna conosce un ragazzo, Mario. Pochi anni dopo si fidanzano. Arianna fa di tutto per convincere i genitori ad accettare Mario, il quale arriva da un contesto familiare difficile. Inoltre ha anche molti problemi con il lavoro. È disoccupato. Arianna dice ai suoi genitori che Mario non ha mai sentito il calore di una famiglia. Passano gli anni. Arianna studia lingue e le mancano pochi esami alla laurea. Quando decide di interrompere momentaneamente gli studi ed iniziare a lavorare nell'amministrazione di una casa editrice napoletana. Quando i genitori le chiedono se Mario stia lavorando, lei tergiversa e racconta «sì, sì, sta lavorando. Tra poco inizierà un nuovo lavoro». Arianna e Mario stanno insieme da 12 anni e Mario è sempre stato disoccupato. Ogni tanto ha fatto qualche lavoro saltuario. Arianna, col suo lavoro, aiuta anche la famiglia del suo compagno. Da due anni sono andati a convivere in un appartamento di via Montedonzelli nel quartiere Arenella. Al piano di sotto vive la madre di lei. Sono andate a vivere insieme quando Arianna ha scoperto di essere incinta. Il signor Sebastiano le aveva chiesto «Arianna, vuoi sposarti? Organizziamo il matrimonio? O preferisci sposarti più avanti e venire a vivere nell'appartamento sopra quello della mamma? Se vuoi lo ristrutturiamo». Così Arianna e Mario decidono di andare a convivere. Purtroppo Arianna nel frattempo perde il bambino. Arianna e Mario continuano la loro vita insieme. I vicini li descrivono come allegri e gioviali, una coppia tranquilla. Questo all'apparenza. Perché in realtà tra Arianna e Mario ci sono spesso delle liti a causa dei soldi. Mario lavora ogni tanto. Lo stipendio di Arianna non basta. «Soldi, soldi, mi chiedeva sempre soldi», racconta la signora Angela. Il denaro era il motivo scatenante dei litigi che finivano soltanto quando Arianna riusciva a raccogliere qualche soldo anche grazie ai prestiti contratti dalla mamma. I soldi servivano a Mario per andare a giocare a calcetto, per le scommesse sportive, per le scarpe firmate, per mangiare biologico, per andare nei locali alla moda, per farsi i viaggi. Altrimenti lui stava nervoso. «Arianna, chiedi soldi a tua madre, ma non dire che te l'ho detto io. Era questa la prassi». Abbiamo quantificato che nell'arco di tutto questo periodo almeno la liquidazione di mia mamma è saltata. Questo è il racconto di Valentina. Un giorno succede qualcosa che fa preoccupare anche il signor Sebastiano, il quale è già perplesso riguardo al fatto che il genero non riesca a trovare nessun tipo di lavoro. Era andato a trovare la figlia e Mario gli aveva fatto un discorso strano. Gli aveva detto «Adesso Arianna col lavoro va bene. Io anche qualche bolletta ogni tanto la vinco». Il padre di Arianna rimane di sasso. Capisce che Mario si sta riferendo al gioco. «Serviranno forse a questo i soldi che Arianna chiede in prestito alla madre». Il padre di Arianna, quella frase di Mario, cerca subito lo sguardo della figlia, come a cercare una spiegazione a quell'affermazione detta così alla leggera. Marianna cambia subito discorso. «Valentina», dice. «Mario le controllava il conto. Arianna chiedeva soldi a mia madre di continuo». Quando Arianna perde il bambino, Mario non le sta vicino come dovrebbe, anzi, la fa sentire inadeguata. Un giorno, in cui un'amica di Arianna partorisce e pubblica la foto della figlia su Facebook, la ragazza mette subito un cuoricino sotto quella fotografia. Immediatamente viene raggiunta da un messaggio privato su Facebook da parte di Mario. È molto arrabbiato e le scrive «Pensa ad altro anziché a mettere i cuori ai post della tua amica con la figlia. Se vuoi potresti averla anche tu una figlia». «Smettila di fare la speruta e carna cotta. Mi sono rotto le palle. Mi stai facendo incattivire con il mondo intero». Arianna risponde «Ok, ok, ma è carina la bimba». Mario ribatte «Che sfacimmo me ne fotte. Puoi anche evitare di mettere i cuori. Ci sono tanti bimbi belli. Non penso che lei è più bella. Basta. Diventa realtà anche tu. Che io mi sono rotto. La gente di merda realizza. E noi mai». Per Arianna quelle sono parole molto cattive ed umilianti, che la offendono profondamente. Ma nonostante tutto non riesce a ribellarsi. Non racconta neanche alle sue amiche quello che le sta accadendo. È mercoledì mattina 19 agosto 2015. È una giornata come tutte le altre. A Napoli fa molto caldo. Arianna va al lavoro. Mario invece se ne va al mare. Quella mattina Arianna è molto nervosa. Il suo titolare racconta «Era agitata. È stata tutto il tempo al telefono. Ultimamente il suo rendimento nel lavoro era molto peggiorato. Quella mattina Arianna parla al telefono con la mamma. La signora Angela le ha detto che non ha ottenuto ancora il finanziamento che lei le ha chiesto di aprire. Arianna è nervosa. La madre le ha detto che i soldi non sono ancora disponibili e lei non sa come affrontare Mario. Mamma sta come un pazzo. Ha visto che non sono arrivati i soldi e ha detto che ora viene qua al lavoro e fa una sceneggiata. Arianna è molto agitata. Quei soldi le servono perché Mario vuole fare un viaggio. Dice che deve svagarsi la testa. La madre la invita ad andare subito a casa sua. Quindi Arianna esce dall'ufficio e va a casa della signora Angela. Non mi pento di averla aiutata economicamente fino a contrarre dei prestiti. Le diedi anche in quell'occasione dei soldi sapendo che anche in questo caso il litigio si sarebbe spento. Finiva sempre così. Quando gli arrivavano mille o duemila euro la sua rabbia si placava e si tornava ad una situazione di apparente calma. Così anche quella mattina quando Arianna venne a casa mia. Provai a farle capire che il suo rapporto era un rapporto malato che non c'era nulla di normale in quella relazione. Poi sentimmo il rumore dell'auto nel garage. Mia figlia si affacciò e vide Mario con la madre. Gli chiese di salire a casa mia. Entrò che aveva gli occhi accesi, uno sguardo da pazzo. A quel punto Arianna dice una cosa molto particolare a Mario. Mario mamma ti deve chiedere scusa. Mia figlia gli disse addirittura che io ero pronta a chiedergli scusa sempre in relazione ad un precedente di niego di denaro. Io non dissi una parola. Chiedere scusa a Mario mi sembrava un'assurdità dice la mamma. Lui la zittì dicendole che non doveva mettermi a conoscenza dei fatti loro. Se la portò via. La strattonava per portarsela via da casa mia. Quello che la mamma di Arianna non sa è il contenuto dei messaggi che Mario ha inviato alla figlia poco prima. Alle 13 e 45 Mario le invia un'immagine. È uno screenshot della lista movimenti del conto. Lo fa per far capire ad Arianna che ha visto che i soldi non sono arrivati. Subito dopo le invia un messaggio che dice comunque sto tornando. Accomincia a fui. Sto tornando. Comincia a scappare. E continua. Ora ti faccio mettere paura. È un ultimatum. Sono le due. Mario costringe Arianna ad uscire da casa di sua madre. Insieme salgono nel loro appartamento. La signora Angela sa che nell'appartamento di Mario c'è anche sua madre. Racconta. Mi pento di non aver interrotto quella scena. Di non aver costretto mia figlia a rimanere con me. Ma confesso di aver avuto anche un attimo di sollievo perché a me quell'uomo faceva paura. C'era anche la madre di lui. Pensai finirà in una bolla di sapone anche questa volta. La mamma di Arianna però continua a sentire le urla dei ragazzi. Decide di salire al quarto piano. Decisi di seguirli perché quel litigio mi sembrava particolarmente violento. Ho sentito mia figlia ad un certo punto urlare. Mario smettila che mi fai male. Se non la finisci mi butto giù dal balcone. E ho sentito lui rispondere. Sono io a buttarti giù dal balcone. A quel punto la madre di Arianna avendo le chiavi di casa dei ragazzi decide di entrare nell'appartamento. Non appena Mario la vede raggiunge la porta cercando di chiuderla. Urlando alla mamma di Arianna che se ne deve andare che non sono fatti suoi e le sbatte letteralmente la porta in faccia. La signora Angela scende al piano di sotto e entra in casa per chiamare i carabinieri. Nel frattempo continua a sentire urlare. Racconta. Forse invece di chiamare i carabinieri ho composto il 118 perché continuavo a sentire urlare non capivo più niente. Ad un certo punto la mamma di Arianna sente un grande frastuono per le scale. Si affaccia e vede correre sotto Mario dietro di lui per le scale. Sua madre. Non me la dimenticherò mai quella scena. Lui indossava una maglia verdina. Mi guarda e mi dice Arianna si è buttata dal balcone. Arianna è caduta dal quarto piano e a terra in una pozza di sangue. È una scena che sua madre non potrà mai più dimenticare. Arriva l'ambulanza. Arianna respira ancora. Muore poco dopo. I genitori e la sorella maggiore Valentina non si spiegano il perché di questo gesto. Sono disperati. Valentina racconta di aver trovato nel cellulare di Arianna parecchi messaggi inquietanti. Ho letto dei messaggi che mi hanno fatto un dolore. Solo a ricordarli è tremendo. Due giorni prima lui faceva un paragone con le sue amiche chiamandola Vecchia. In altri messaggi Arianna gli scriveva quando si tratta dei soldi diventi violento. Poco alla volta Arianna è stata isolata dal contesto sociale dai suoi familiari e dai suoi amici. Anche gli amici parlano di vessazioni e di sopprusi. Mario però smentisce tutto e racconta che Arianna sin da piccola aveva sofferto per il tradimento del padre nei confronti della madre. Vostra figlia era depressa dice. Il padre della ragazza ribatte. Questi racconti mi sembrano ancora una volta il suo volersi arrampicare sugli specchi. Cercare di discolparsi in modo assurdo. Arianna con me aveva uno splendido rapporto. Le indagini sulla morte della ragazza sono molto delicate e Mario viene formalmente iscritto nel registro degli indagati. Questa iscrizione è un atto dovuto in vista dell'autopsia. Si deve cercare di capire quali sono stati gli ultimi momenti prima della caduta di Arianna dal balcone. Forse qualcuno nel palazzo ha sentito qualcosa. Qualche condomino racconta di aver sentito le voci di Arianna e di Mario che stavano litigando. L'autopsia rileva un libido sul braccio della ragazza e un ematoma antecedente alla caduta. Ma può bastare un ematoma sul braccio della vittima ipotizzare un reato come l'omicidio? Per due volte i carabinieri hanno perquisito la casa di via Monte Donzelli alla ricerca di qualche elemento, magari uno scritto che possa giustificare un gesto così estremo. Viene sequestrato anche il telefonino di Arianna. La versione di Perrotta è la seguente. Racconta che stava discutendo con Arianna mentre entrava nel loro appartamento. Non appena entrato in casa ha sentito la serratura di quella casa aprirsi ed era proprio la madre della ragazza che aveva aperto la porta con le sue chiavi. Perrotta dice che la madre di Arianna voleva entrare a tutti i costi in casa e che lui le avrebbe detto esci fuori da casa mia. In quel momento era arrivata sulla porta anche la madre di Mario. Lui ha tentato di mandare via la madre della ragazza e mentre era intento a fare ciò, dice, ha sentito come un rumore di ferraglia. Dice di essersi precipitato in cucina, di essersi affacciato al balcone e di aver visto Arianna sotto, in cortile a terra. La linea difensiva di Perrotta vuole dimostrare che quando la ragazza è volata giù dal balcone, Mario Perrotta fosse intento a contrastare l'ingresso della signora Angela e che il gesto dell'ex compagna era imprevedibile e sproporzionato rispetto a un manale litigio. Passano gli anni, Mario si rifà una vita, ha una figlia. Nel frattempo la famiglia di Arianna si rivolge alla trasmissione Chi l'ha visto il 29 aprile del 2020. A chi l'ha visto vengono rese note alcune testimonianze di amici della coppia. Sono testimonianze che arrivano anche da amici di Mario, i suoi amici, che testimoniano contro di lui. In particolare c'è il racconto di un episodio molto crudo avvenuto durante le vacanze. Arianna e Mario si trovano in provincia di Salerno, in vacanza insieme agli amici. Dopo un pranzo tutti insieme, Arianna avrebbe bevuto un classico cicchetto, un bicchierino solo, dicono le amiche, che escludono che la ragazza fosse ubriaca. Arianna quel giorno era particolarmente sorridente e questo infastidiva molto Mario, che a un certo punto la prende e la porta nella camera da letto adiacente al terrazzo dove stavamo mangiando. Gli amici sentono dei rumori, oltre alle voci dei due ragazzi che stanno discutendo. Quei rumori sembrano rumori di schiaffi. Gli amici stanno per intervenire quando all'improvviso Mario esce dalla stanza e va sul terrazzo portando con sé delle lenzuola sporche di escrementi e dicendo guardate ha voluto fare la grossa e si è cacata addosso. È un episodio terribile, un'ennesima umiliazione per Arianna. La testimonianza di Perrotta rispettò a quell'episodio invece. È la seguente. Ad un certo punto sul terrazzo mi sono accorto che Arianna stava bevendo del rum con la sua amica Cristina. Io le ho detto di non bere, perché mentre Cristina era abituata e regge bene, lei non lo era. Secondo Perrotta invece Arianna avrebbe continuato a bere il rum dicendogli di non preoccuparsi. Nel frattempo Mario si sarebbe distratto per chiacchierare con altri suoi amici. Ad un certo punto si sarebbe accorto che Arianna non c'era e avrebbe deciso di andare a vedere nella camera da letto. Perrotta dice di aver trovato Arianna nel bagno, accovacciata sul water. Arianna non si sente bene. Mario inizia ad alzare la voce, cerca di sollevarla ed è in quel momento, racconta, che Arianna gli avrebbe detto mi fai male, perché lui aveva cercato di sollevarla di peso per metterla dal water sul bidet. Gli amici nell'altra stanza, secondo lui, avrebbero interpretato quello che hanno sentito come se lui la stesse picchiando. Mario dice di aver alzato con la forza Arianna, dice di averla appoggiata sul bidet e poi di averla appoggiata sul letto per quello le lenzuola si erano sporcate. Ma allora che cos'era quel rumore che gli altri ragazzi percepiscono come rumore di schiaffi? Mario racconta di aver battuto le mani con forza, rammaricato, dicendole mamma mia, Arianna che hai combinato? Io te l'avevo detto, te l'avevo detto. Gli avrebbe detto queste parole continuando a battere le mani, arrabbiato, perché lei non lo aveva voluto ascoltare quando le aveva detto di non bere. Poi Mario avrebbe raccolto le lenzuola dicendo, ha visto? Gliel'ho pure raccomandato. Guardate cos'è successo, si è cacata sotto. Mario riconosce che quel gesto sia stato veramente orribile, ma si giustifica dicendo, ero molto arrabbiato. Dopo la puntata di chi l'ha visto però succede qualcosa. Un testimone di una lite tra Arianna e Mario chiama la trasmissione e racconta. Io avevo sentito dire da lui che non avesse mai messo le mani addosso ad Arianna, invece io l'ho visto. È capitato un episodio che l'ha picchiata e le ha dato un calcio. Il testimone ha spiegato di aver visto la scena mentre si trovava al lavoro nel suo supermercato. Erano entrati Mario, Arianna e la madre di lei. La madre camminava più avanti, i ragazzi stavano già discutendo. All'improvviso lui le aveva tirato un calcio colpendola alle spalle. La madre di Arianna stava camminando verso l'ingresso del supermercato e non si era accorta di nulla. Arianna non aveva reagito ma aveva continuato a camminare seguendo la madre. Mario era tornato indietro e se n'era andato via. Il testimone era rimasto basito e la scena era stata vista anche dai suoi colleghi. Alla trasmissione di Rai 3 Mario per rotta però ha continuato a negare di essere stato violento con Arianna. Dice qualche volta è capitato qualche strattone ma non l'ho mai, mai picchiata, non le ho mai messo una mano addosso soprattutto in pubblico. Il 29 marzo la corte di appello di Napoli, la quinta sezione penale con presidente Rosa Romano condanna Mario per rotta a 19 anni di carcere. Per rotta è ritenuto colpevole di istigazione al suicidio e maltrattamenti con l'aggravante della morte oltre che di tentata estorsione. Ha portato Arianna con le sue condotte maltrattanti ad una intollerabile disperazione. Secondo i giudici era pienamente consapevole della condizione di estrema fragilità e di vero terrore in cui aveva ridotto la ragazza con le sue condotte portate avanti con assoluta insensibilità. Non si è trattato di un gesto attribuibile ad una causa autonoma e soprattutto il suicidio è stato un atto in concreto prevedibile. Queste sono le motivazioni della sentenza. Anche nell'ultimo giorno di vita della compagna, anche di fronte al disperato invito di lei a smetterla, altrimenti si sarebbe tolta la vita, Mario ha continuato a vessarla. In primo grado, Mario Perrotta era stato condannato a 22 anni di carcere. Oltre alle testimonianze di amici riguardo l'assoggettamento da parte di Arianna nei confronti dell'uomo, è stato incluso anche un messaggio risalente a due giorni prima della tragedia, il 17 agosto, quando Arianna gli scrive disperata «Vita mia, ti supplico, no ti prego. Amo, sto tremando, non riesco ad accocchiare nulla, ti prego». A metà dicembre del 2020, Mario Perrotta esce dal carcere. L'ordinanza di custodia cautelare è stata annullata dalla dodicesima sezione del Tribunale del Riesame di Napoli. La decisione è stata presa a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, che aveva rimandato il fascicolo ai giudici di Napoli per una nuova valutazione. Gli avvocati Cerino e Pisani difendono Mario Perrotta. I primi di marzo del 2021, però, il sostituto procuratore generale di Napoli, Giovanni Cilenti, al termine della requisitoria, chiede per Mario Perrotta 24 anni di carcere. Sotto processo, davanti alla quinta sezione della Corte di Assise d'Appello di Napoli, Perrotta rilascia dichiarazioni spontanee. Dunque, durante l'udienza, vengono chiesti due anni di carcere in più rispetto alla condanna a 22 anni. Riguardano il reato di tentata estorsione, per il quale Perrotta era stato assolto in primo grado, in relazione alle richieste di denaro che l'imputato rivolgeva ad Arianna e alla madre di quest'ultima, accompagnate da minacce. L'udienza successiva viene fissata per il 15 marzo. Durante l'udienza si fa luce sugli anni terribili vessuti da Arianna a causa di Perrotta, una situazione dalla quale, nonostante i tentativi di aiuto da parte dei suoi cari, non è riuscita a liberarsi. La famiglia della ragazza è convinta che non fosse depressa, ma esasperata dai comportamenti dell'ex, per questo si sarebbe tolta la vita. Per quanto riguarda il reato di estorsione, Mario Perrotta in primo grado è stato assolto, in appello è stato riconosciuto colpevole del reato, ma solo ad anni di Arianna. Dunque è stata ridotta di tre anni la condotta e in secondo grado a Perrotta vengono dati da 22-19 anni di carcere. Queste sono le parole della madre di Arianna. Niente e nessuno potrà restituirmi mia figlia, ma è consolatorio per una madre, per una famiglia intera avere questa giustizia. Visibilmente commossi al termine della lettura del verdetto anche il padre, la sorella e la criminologa Antonella Formicola, che ha assistito gli avvocati di famiglia. Nulla potrà mai restituirmi mia sorella, dice Valentina, ma il verdetto di oggi conferma il dramma vissuto da Arianna. Una sentenza per quanto esemplare non ti restituisce la persona amata, ma può rappresentare un esempio per spingere chi subisce un torto a rivolgersi alle forze dell'ordine, alla giustizia. Ci auguriamo che la sentenza diventi presto definitiva ed esecutiva, in modo da rappresentare un faro per chiunque non abbia il coraggio di denunciare maltrattamenti e vessazioni. A proposito dei soldi che lui avrebbe chiesto ad Arianna, Perrotta si difende e dice Io non ho mai chiesto soldi ad Arianna. Lei era molto generosa e spesso voleva fare delle cose che non le competevano. Ma io non ho mai chiesto soldi ad Arianna. A differenza di quello che si dice, io ho sempre lavorato, ma in nero. Ho lavorato anche per 20-25 euro al giorno e non ho mai picchiato Arianna. Il ragazzo non sa spiegare come mai anche i suoi stessi amici dichiarino che lui l'abbia picchiata. Non spiega nemmeno perché nei messaggi la offendesse dicendole, sei brutta, sei vecchia, sei grassa, hai la gobba, non sai portare i tacchi, non vedi come sei più brutta delle tue amiche. Arianna a questi messaggi rispondeva Eppure cerco sempre di non farti mancare nulla ma tu sei violento con me. Il 21 novembre del 2021 la Corte di Cassazione respinge il ricorso della difesa di Mario Perrotta e conferma definitivamente la condanna a 19 anni di carcere. Valentina dice mia sorella morì per le offese, lui oggi finalmente va in carcere, umiliare una donna vale come una coltellata. Valentina ha dato voce a sua sorella in aula nei tre gradi di giudizio, è stata la forza per sopravvivere al dolore, dice. Valentina, quando Arianna è morta, era al mare, nella casa delle vacanze a Palinuro. La sera prima le aveva chiesto ancora una volta di raggiungerla. La risposta di Arianna era stata, dai quest'anno è andata così ci rifaremo. Dopo sei anni e tre gradi di giudizio, Mario Perrotta va in carcere. La Cassazione ha confermato la condanna definitiva a 19 anni per istigazione al suicidio. Valentina è serena, è il sole che Arianna amava tanto quello di oggi ed è il destino che questa sentenza arrivi nella settimana in cui le donne di tutto il mondo dicono no alla violenza. È finito il nostro strazio. L'ergastolo, per noi di questo si tratta, lo sconteremo fino alla fine dei nostri giorni. Arianna non tornerà mai più, ma ha gridato un messaggio forte agli uomini. Non scherzate più, non pensate di farla franca. Un'offesa vale quanto una coltellata. Le violenze psicologiche fanno più male dei lividi. Sono stata io la sua voce in questi anni durante le udienze. Esserlo mi ha dato la forza per andare avanti. L'unica ragione di vita per me è la mia famiglia. Quando le chiedono cosa provi per Mario Perrotta, Valentina risponde mi fa pena. È stato un vigliacco sempre. La sottomissione era una maniera subdola di farle violenza. Un livido, una ferita, per noi potevano rappresentare una spia, un allarme. Invece ha distrutto Arianna l'annientata, senza avere il coraggio di metterci neanche la faccia. Negli anni successivi alla sua morte non ha capito nulla. Poteva, anche per finta, avvicinarci, mostrarsi addolorato. Avrebbe potuto scusarsi per il male che ha fatto mia sorella, ecco invece ha creduto di farla franca. Ha continuato ad andare in giro in questo stesso quartiere con la sua nuova compagna e la loro figlia. Come se nulla fosse accaduto. Vederlo sorridente è stato uno strazio per me ogni volta. Poveraccio, è rimasto da solo. I suoi amici sono venuti in aula a testimoniare per mia sorella. Sei mesi dopo mi avvicinò e mi disse, tua sorella era depressa, lo sapevano tutti. Quelle parole sono state la sua condanna. E non anche l'ho capito. Avrei voluto fargli tante domande. Perché l'hai trattata male? Perché non l'hai fermata? Perché il giorno successivo alla sua morte ridevi al telefono con un amico e progettavi un viaggio a Londra. Non me ne ha mai dato l'opportunità. Durante i tre processi ha fatto disposizioni spontanee, studiate, ma neanche più di tanto. La prima volta fu sconvolgente. Parlò di Arianna come della sua ex compagna, con un distacco, una freddezza non compressibili. Sono consegnata, senza sé, senza ma. Quando una donna è così soggiogata, non comprende che è in pericolo. Continua a dare alibi e giustificazioni ai comportamenti violenti del suo compagno. Si crea una maschera in mente. Mente con chiunque. Le chiedono se abbia mai visto Arianna felice con Mario. Sì, all'inizio. Quasi sempre. Era piccola quando l'ha conosciuto. Era felice quando noi l'abbiamo accolto in famiglia, nonostante a noi non piacesse. A noi non piaceva il suo modo di fare. Arianna, quando è rimasta incinta, era raggiante. Era disperata il giorno in cui perse il bambino e lui puntualmente la piantò in asso. Ricordo esattamente la sensazione che provai quel giorno. Pensai che quel bambino non sarebbe stato felice. Ho avuto il senso di colpa per tanto tempo. Le donne devono sapere che esiste sempre un'altra strada, ma capiscano soprattutto gli uomini che anche per loro esiste una punizione. Mario ne è la testimonianza vivente. Grazie. 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 Grazie.